ciao sempre tra i modifier un po di stile diciamo volevo mostrarvi questo .dash anche questo è tra quelli un po' nuovi che nelle vecchie versioni di blender non c'era prendo ink pen e magari adesso uso un verde magari capiremo perché traccio dei segni come questi .dash mi permette di trasformare i segni in tratteggi è piuttosto completo per cui diciamo che in questo caso vedete ci sono con il gap posso decidere lo spazio che c'è tra un punto e l'altro con dash il la quantità invece di spazio unito quindi se metto 1 e 4 otterrò dei piccoli buchi e delle lupe dei lunghi tratti ovviamente usano i punti che sono disponibili quindi servono fondamentalmente a creare un segno tratteggiato con questo posso cambiare diciamo la posizione vedete che si muovono per cui pensate potrei anche animare questi segni tratteggiati quindi se adesso metto 2 1 potrei mettere nel primo fotogramma offset 0 nel fotogramma 60 offset 10 vediamo appunto che succede nel momento in cui faccio play li vedo che si muovono perché l'offset cambia quindi adesso ovviamente rimuovo in questo caso clear keyframes rimuovo questa animazione però ricordatevi appunto la possibilità di animare ognuna di queste cose posso anche creare più di un blocco e anche cambiare materiale quindi vedete material index meno uno come lo avevamo visto l'altra volta se io creo un nuovo materiale riparto sempre da solid stroke lo duplico per visibilità appunto scelgo un materiale in questo caso con un verde più brillante e se scelgo uno ora non mi accorgo di niente perché ho colorato con con il segno perché ho utilizzato i colori e quindi anche se cambia il materiale non me ne accorgo rimuovo tutti questi segni e li ricreo in modalità materiale e appunto magari il primo invece che nero scegliamo appunto ecco questo adesso ho due verdi diversi e sono due materiali diversi creo in modalità materiale alcuni segni e vedete che si spostano già al materiale successivo perché qua ho messo uno se fosse zero rimarrebbe lì se fosse due andrebbe a un materiale che non c'è quindi con uno cambia materiale potrei decidere di fare più di un segmento quindi questo è il primo segmento in un secondo segmento potrei dire di usare un altro materiale e quindi vedete in pratica riesco a fargli cambiare materiale e anche cambiare eventualmente dash e dot a in maniera alternata quindi nel primo segmento che è fatto unendo due saltando uno a il materiale zero il secondo segmento è fatto unendo tre e saltandone due di punti ed è usa un materiale ancora diverso quindi questo mi permette per esempio di fare un segno come ho fatto e di andare poi a cambiargli il colore se io riduco il gap a zero su entrambi il su entrambi i segmenti vedete non c'è nessun buco però ogni due punti viene cambiato il materiale poi ogni tre punti dura l'altro materiale i punti sono quelli che ho realizzato disegnando all'inizio anche qui può essere usato per questioni di stile e quindi per creare dei disegni tratteggiati per esempio però anche in modo un po' particolare vediamolo un attimo insieme lo disattivo momentaneamente quindi torno al disegno esattamente come era e vediamo un attimo quest'altro modifier che è il modifier length, il modifier length cambia la lunghezza del segno vedete che si sono allungati perché posso cambiare sotto start i miei disegni partivano da sotto e vedete più aumento più le linee in partenza non solo si allungano ma anche si curvano si curvano per via di questo curvature che è selezionato se lo disattivo semplicemente i segni si allungano se io qua mettessi zero guardate la parte sotto i segni sono uguali man mano che aumento i segni vengono allungati nella direzione che avevano sull'ultimo tratto con curvature invece si piegano e posso anche andare a cambiare alcuni dei parametri vedete della curvatura andare a cambiare il comportamento della curvatura di qua di là posso farlo all'inizio con start oppure posso farlo alla fine e come vedete posso anche mettere dei numeri negativi e quindi accorciare i segni che ho fatto e perché sono simpatici da mettere insieme? perché adesso disabilito length, rimetto questo iniziale di .dash e quindi cosa ho fatto qua? ho dei tratteggi e magari ripristino un po' di gap anche nei segni verdi e adesso vedete siccome questi segni sono interrotti quando poi gli vado ad applicare mettiamolo a zero gli vado ad applicare una lunghezza per esempio sulla end i segni si allungano come vedete e si allungano però dopo essere stati interrotti da questo primo modifier se questo modifier si trovasse dopo funzionerebbe in maniera diversa prima si allungerebbero e dopo verrebbero interrotti invece siccome prima vengono interrotti e poi si allungano sembrano nascere diciamo dei fili d'erba in questo modo e più aumento length la lunghezza di questi segni cambia e quindi diciamo che con dei piccoli segni e cambiando eventualmente la curvatura e alcuni dei parametri posso andare a creare dei fili d'erba semplicemente disegnando dei piccoli tratti qua sotto e nascono questi ramoscelli questo è solo un uso un po' diciamo simpatico però come al solito io vi porto degli esempi che cerchino anche di stimolare la vostra creatività nel cercare di utilizzare questi strumenti in modo particolare adesso ho questi materiali e volendo appunto uno cambia i materiali e cambia l'aspetto di questi fili d'erba da appunto da verdi a secchi e anche per quello può essere carino il fatto che la modalità dot dash mi permette di cambiare materiale ogni volta ecco messi insieme due modifier che di per sé non è che hanno un ruolo tra di loro però il cui mix crea un effetto simpatico grazie e alla prossima